Siamo alla vigilia della Marcia della Pace, in onore di Padre Francesco Convertini, siamo alla 14esima edizione, sono 14 anni che due comunità miracolosamente dialogano insieme. Siamo con Don Pierluigi Cameroni che sta seguendo il percorso di beatificazione di Padre Francesco che continua a seminare dialogo a piene mani. Sì, innanzitutto mi congratulo per questa iniziativa che come diceva è già il fatto che metti insieme due comuni, due realtà civili ecclesiali ma poi tante altre perché ho visto quanti enti hanno dato la loro adesione. E credo che questa è proprio una bella forza di Padre Francesco, cioè un uomo che sa convocare, che sa mettere insieme culture, tradizioni, sensibilità diverse. E questo oggi è un grande messaggio, no? Che è la capacità del dialogo, la capacità della collaborazione ma che nasce sempre dal conoscersi. Se non ci si conosce non c'è né dialogo, né collaborazione, né capacità ecco di fare i cammini. E la cosa che anche stamattina incontrando i ragazzi della scuola mi è piaciuto molto perché spiegando il senso di Marcia della Pace, no? Marcia che ricorda il senso che la vita è un cammino e lui è stato un grande camminatore, soprattutto a piedi e in bicicletta. Mi hanno detto che faranno anche una nuova pista ciclopedonale dedicata a lui. E poi della pace, cioè costruire questa pace che poi vuol dire rispetto, vuol dire solidarietà, vuol dire collaborazione, vuol dire disponibilità. Ecco, si declina poi anche in tanti modi questa pace. E' un dato quanto quelle comunità effettivamente amino ancora il padre Francesco e lei ci riporta qui tutto questo grande amore. Quindi il miracolo è anche questo collegamento locorotondo, cisternino, l'India. Sì, credo che anche questa è una grazia di padre Francesco perché queste figure aiutano a superare tante barriere, barriere culturali, barriere religiose, barriere anche tante volte psicologiche che le persone vivono, no? Ecco, lui è stato un vero, un artefice, un artigiano della pace, un uomo che sapeva incontrare. E la cosa che colpisce è che umanamente non è che avesse chissà che capacità padre Francesco. Non aveva chissà quali doti, qualità, non era un tipo imprenditoriale o che avesse chissà che eloquenza. Però il suo modo di essere, la sua attitudine interiore, la sua postura direi spirituale, lo ha reso veramente un uomo del dialogo e dell'incontro. E come accennavo anche prima, una delle cose che mi ha sorpreso in India è che è molto ricordato. E la gente lo ricorda anche con fatti molto puntuali, semplici se vogliamo, ma che hanno segnato la vita delle persone. E poi l'altra cosa sorprendente è che lo ricordino gli induisti, per esempio, che lì sono la maggioranza, e che comunque lo vennerono come un uomo di Dio, come un santo, veramente. Questo anche ci sorprende, per cui sono quelle testimonianze che proprio perché autentiche vengono riconosciute al di fuori anche dei cicli, diciamo, dei nostri confini istituzionali o religiosi, vanno oltre. Ecco, la bellezza di Padre Francesco è proprio quegli uomini che ti mandano sempre oltre, che ti dicono che la realtà va sempre più grande di quello che tu vedi, pensi o puoi capire. Anche questo è un grande messaggio. Ma la causa, dopo la venerabilità, da un punto di vista processuale, è finita. E come sappiamo la Chiesa esige un miracolo che certifichi dall'alto, diciamo, la santità di questo uomo. E quindi, certamente, perché ci sia anche questo, è importante che, come stia avvenendo anche in questi giorni, io dico una causa va avanti se c'è un respiro. Cioè dare un respiro ecclesiale, sociale, comunitario. Più gente è coinvolta a diversi livelli, con diverse sensibilità, no? Poi, chiaramente, c'è anche l'espressione più religiosa, più spirituale, in cui anche la gente, casomai, chiede, si affida, chiede l'intercessione. E nel momento in cui noi riconosciamo che c'è anche qualche fatto, che scientificamente non si spiega, che può essere accompagnato, accompagneremo anche questa fase processuale. Però è importante che si crei questa sensibilità, perché se non c'è la sensibilità non ce ne manca poi l'attenzione a riconoscere, a chiedere, accompagnare.